Quando sei qui con me, senti che ore fai? Che dici? Quando? Non ricordo, senti dopo mi ci fai la dedica, deve essere un lavoro interessante il tuo, deve dar soddisfazioni, no? Ho visto una fotografia, ah ho visto una fotografia sull'europeo, si picchia, 580 pagine, scrivi molto tu eh? Come tutti quelli che non avevano niente da dire? Come sarebbe? Ma non ce l'hai una radio? Ma senti, ma non ce l'hai una radio tu? No. Perché? No, le canzonette mi daranno il sapore non so uscire da me. Sai ballare? No. Nuotare? Ma scusa, che senti? Ma scusa. Vabbè. Sai ballare? No. Nuotare? Ma scusa, non sai fare niente tu? Bene. 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 Dicevo così, non è mica molto importante del resto. Ho incontrata Milena. Ragazza bella. Ragazza bella ed eccitante. Chi è? Senti, ma chi è questa Milena? Ma niente, è un tipo che ho conosciuto un tempo fa. E la metti nel libro? Ma forse, ma ti ho detto di lasciare stare. Perché scusa? Ma che tu non posso? Non stanno con tanto l'altro. Scommetto che te la sei portata a letto. Dove ha portato come lei non è difficile. Beh? Beh, si vede che gli piacevi, no? Può darsi, ma vedi, a Milena va tutto bene. Lei è sempre consente. Ma è tanto stupida. Senti. Ma Milena sono io? Ma Milena sono io. Sono così? Una specie di deficiente. Incontrata Milena. Ragazza bella ed eccitante. Chi è questa? Chi è questa Milena? Ma niente, lascia stare. Non c'è poco che ho conosciuto tempo fa. E la metti in un romanzo? E la metti in un romanzo? Ma forse. Tu ho detto, lascia stare. Ma perché scusa? E ti importa una cosa come tante altre. Scommetto che te la sei portata a letto. Ma non di più come lei non è difficile. Si vede che può darsi che gli piacevi, no? Può darsi. Ma vedi, a Milena va sempre tutto bene. E lei non è mai scontente. Senti. Ma Milena sono io. Sono proprio così. Una specie... Una specie di deficiente. Grazie. Provino Sandrelli terza. Milena. Incontrato Milena? Ragazza bella. Felicitante. Felicitante. Ma chi è? Ma chi è questa Milena? Ma niente, lascia stare. È un tipo che ho conosciuto tempo fa. La metti in un libro? E la metti in un libro? Buon forse. Ma ti ho detto, lascia stare. Ma perché scusa? Ma che ti importa? È un tipo come tante altre. Scommetto che cosa? Scommetto che te la sei portata a letto. Ma come lei non è difficile. Beh. Si vede che le piacevi, no? Ma vedi, è Milena, va tutto bene. Lei è sempre potente. Senti. Ma sono io. Ma Milena sono io. Sono così. Sono così. Così, una specie... Una specie di deficiente. Oh. Sì, facciamo un bravo. C'è io. C'è io.